le collezioni di paolo paoli new salve a tutti amici iscritti oggi prima di vedere l'epimil di cattivissimo me 4 iscrivetevi al canale mettete più mi piace condividete commentate iscrivetevi al canale essa seguite ppnews03 instagram e seguite le pagine facebook qua in questa immagine abbiamo quel minion cattivo assieme a quei tre minion dove qualcuno sta rubando il sorriso di mister happy oh no il mio sorriso no mi sta spavendo il mio sorriso ragazzi fate qualcosa fate qualcosa sorridi i minion sono arrivati direttamente da cattivissimo me 4 i compagni di avventura più simpatici di sempre sono pronti a portare gioia e buon umore li trovi in ogni epimil adesso scopriamo le sorprese allora ho trovato a vl dave il mio preferito quindi lo potete vedere dopo e comunque è dei versioni così delle come quello del canale franco francesco poi prossimamente parlerò nel canale estra in futuro un video che poi il canale di franco francesco diventerà il canale di francesco perché nell'immagine di profilo nuova del settembre c'è solo francesco quindi diventerà forse il canale francesco ma noi forse lo diciamo sempre il canale franco e francesco ma comunque forse faranno sette versioni degli universi vabbè lasciamo perdere allora abbiamo avviele dave avviele jerry una coppia perfetta che sono dei bei personaggi che a me piacciono vabbè poi c'è ralph spacca tutto ron un amico fuori programma pit trev pill vabbè questi sono minion normali qua sono minion con il cappello rosso e con la tuta rossa che sono degli allenatori non lo so peter crev peter crev ralph peter crev ron un amico fuori programma raspa catutto mega dave mega gas mega jerry che sono tipo i fantastici 4 ma sono minion super eroi votati che fanno che sono definitivi vabbè mega mail o è mega team questa serie sono di 12 personaggi che si trovano in ogni epimil ogni 5 euro del sì ogni 5 euro può ricevere uno dei 12 minio della serie non si sa se collezionerò tutti ma sono troppi come faccio a collezionare gli abc della merenda le patatine di sponge bobo non si sa vediamo in futuro se li collezionerò tutti ma c'è anche nell'epimil c'è anche il libro di cattivissimo me 4 che è in scoppi libro di cattivissimo me 4 a me piace questo libro è bellissimo cattivissimo me 4 ecco i personaggi questa qua forse lo voglio non si sa se qualcuno me lo regalerà il libro di cattivissimo me 4 come il super happy me perchè il super happy me me l'ha regalato qualcuno e all'interno c'è gli activi book di cattivissimo me 4 con invece tutta la famiglia di gru dove c'è lucy gru ti odio margo ti odio vecchietto di tomorrowland va bene agnes edit e il dave quello che abbiamo trovato i minion e con super happy me l'epimil più un kit kit scuola cattivissimo me 4 può ricevere questo l'astucetto dei minion il righello dei minion ci sono tutti i minion poi lo vedremo quando farò il video gli stickers di quello di minion questo adesivetto qua questo specie di altri adesivi tutti gli adesivi qua questo è tipo un porta zaino con cattivissimo me 4 vabbè bello tornare a scuola è arrivato super happy me l'epimil un peso super cosa include insieme all'epimil un fantastico kit scuola cattivissimo me 4 con astuccio righello tag zaino è un tag zaino etichette post it sagomato segnalibro adesivo matita rainbow mazzi matita e matita evidenziatore insomma tutto è necessario per tornare tra i banchi questo è un super happy me l'epimil non voglio rifarlo cento per cento le volte questo video allora questo è il boss dell'epimil di cattivissimo me 4 solo al cinema e abbiamo questi 3 minion che qualcuno ha rubato il sorriso di happy aiutaci a salvare i sorrisi scansionate per giocare sblocca la tua missione 1 genitori scansionate il codice sull'altro lato del boss 2 sbloccate la missione per giocare con i vostri bimbi guardate e c'è l'app dell'epimil dove quel minion sta prendendo i sorrisi dell'epimil a caso e quel mega gas a caso che fa vabbè e qua non è sempre il solito sopra i p.mil ma questa volta è il sorriso dell'epimil del mcdonald's rubato da un da un coso da un gancio e poi lo sai che ci ha messo svuotami e riciclami nella carta 2024 questo è del 2024 l'epimil ha rispettato bene la natura e poi tutto il resto con svuotami e riciclami va bene apriamo la sorpresa del giorno forse sarà l'unica sorpresa dell'epimil di cattivissimo me vabbè ci sono tante altre collezioni da comprare da prendere come quello di abc della merenda parmareggio con nuova serie forse te l'ho aggiornato prima quello con i luni toons porti che è una serie nuova dove questa volta è una doppia collezione con i luni toons con i personaggi di luni toons come sempre tranne il povero Yosemite Sam qua non c'è la cartina e si l'ha visto la cartina dal sito allora c'è il codice della VL 751 e vabbè lo sapete già come si scansiona oppure è quello con quello che avete trovato lo stesso sorpresa di AVL Dave e poi 751 AVL bene 4 abbiamo questo coso di plastica che come negli epimila di adesso di plastica con la carta boh hanno messo la plastica assieme allora abbiamo un personaggio 3d dei minio stavolta è bellissimo bellissimo 10 su 10 non dillo a blay 2 che ha detto blay 2 fa schifo la sorpresa bla 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 vabbè non ci pensiamo a blay 2 guardate Dave Dave con gli occhiali da sole quello il minio con due occhiali c'ha un occhiale dei minio sia gli occhiali da sole e qua c'ha la cravatta poi c'è il simbolo della vl poi c'è anche tutta la tuta nera della vl questa sorpresa è fatta di plastica riciclata che sembra proprio che sia un portaoggetti per caso ma guardate è un portaoggetti togli la faccia del minion e poi guardate non si sa se è un portaoggetti del minion a caso ma non è una sorpresa fatta a mano ma è una sorpresa bellissima diciamo questa sorpresa dell'epimil di cattivissimo me 4 li do un voto 10 su 10 che è molto bello questa è la nuova ok vabbè non ci pensiamo allora apriamo il super epimil di cattivissimo me 4 questa sorpresa è stata prodotta da appo geo atto geo atto srl lo rompiamo per cosa matite viti santo e matita rainbow prodotte confinita in direttiva dalla sequenza dei giocattoli grazie del consiglio è come l'astucetto di miracolus ladybug e di chat noir e dei hotwills che non l'ho preso vabbè allora non voglio colesione di tutte le sorpre dei super epimil vabbè a me piace qua c'è scritto attenzione questo sacchetto non è un giocattolo per evitare i rischi di sofocamento non lasciare che i bambini giochino con il sacchetto sacchetto raccolta plastica vabbè in questo super epimil astucetto abbiamo quello diverso abbiamo gru che braccia concerte e qua di abbiamo gru gru sorridente gru un po peggiore il logo di g di gru e poi c'è gru junior e l'animaletto di gru che non compare quasi mai nel film ma è comparso nel film va bene non si sa e qua abbiamo questi tre minion che sono del film di cattivissimo me 4 dove gru ha una nuova vita abbiamo sto minion con le ciambelle va bene quel minio che prende le cose dalla macchinetta distributore automatico e il minio che è intrappolato per sempre bloccato per sempre nel distributore automatico che mangia patatine cattivissimo me 4 mcdonald's 2024 va bene questo è l'astucetto invece dello zainetto astucetto come super pimi come sorpresa invece della sorpresa è un personaggio 3d ecco che si è staccato la testa va bene apriamo sembra di comprare zaino e astuccio delle scuole vabbè abbiamo l'adessivo set di adessivi con mel acti mel con mel mcdonald's e abbiamo una specie di adessivi che sono tutti uguali abbiamo guarda uguale dave che mangia la mela cattivissimo me 4 mish e l'altro mel che preferisce una banana c'è la banana 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 un gruppetto di minions indossivamente soddisfatti abbiamo questo kevin dave così jerry minion occhiuto uno steward mel chiare mareri la valeri minion che ride con gli occhi chiusi poi abbiamo anche una terza scena di cattivissimo me 4 abbiamo un dave che mangia la mela un minion che suona la cucaraccia un bob jerry con come capello un anatra vabbè un minion con gli occhiali a caso diversi va bene di questo minion quello occultissimo con un capello so che non sappiamo nemmeno un nome a caso ralph questo e questo minion vabbè che vince di risato poi abbiamo jerry con un altro minion un po imprigionato dal dalla fune che è stato rubato mister happy poi abbiamo quello che sempre nello stesso astucetto abbiamo il minion con le ciambelle il minion che ruba le cose dalla macchinetta è un minion intrapporato che mangia le patatine che è stato rinchiuso sempre nella macchinetta sempre la stessa immagine la voglio questa immagine la voglio sempre con i minions abbiamo sempre con il logo di cattivissimo me qua tutti insieme abbiamo o tanti minion da analizzare abbiamo quello minion che è bloccato tra le macchinette un Dave che sta strulando un altro minion a caso un minion con vabbè un minion che sta ballando Dave va a ballare un minion con il sigaro e la cucarata perché mettono il sigaro il minion perché ma mettono qualcosa scusa perché stai fumando non lo so questo Mel con le ciambelle col zì facendo ciao ciao vabbè a caso vabbè sempre quel minion intrappolato quindi sono sempre gli stessi stessi personaggi ciao 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 con le ciambelle sempre il minion ripetitivi ok poi abbiamo Mel con lo stura lavandini assieme a questo che assomiglia a Dave a Kevin con lo stura lavandini poi abbiamo Gru assieme a Aviel e Dave che ce l'ho e minion stuas sono sempre gli stessi ma non sono blocnotes a caso che per rovinare i bambini servono che per rovinare i bambini a caso vabbè poi abbiamo quella specie che si può mettere nei quaderni abbiamo tutti gli occhi dei minion così due occhi sembra quello un sorridente un occhio così un occhio bu un occhio noioso tutti i ripetitivi occhi Gru il minion con le ciambelle lo sappiamo già ah non è un non è un sigaretta è un vabbè quello che suona nelle feste è una maraca un minion vabbè non è un sigaro ripeto non è un sigaro c'ha quel maracas vabbè questo minion cool con gli occhiali da sole bellissimo va bene mel e basta poi abbiamo un bloc notes di cattivissimo mequadro schempere con il minion dave che mangia la mela molto carino mi piace sembra così a caso quel che nel sito ha detto che è un tag zaino un tag zaino dei minion nome telefono indirizzo sembra come quello che si trovano nel kinder sorpresa di cattivissimo mequattro scusa minions sempre lo stesso che c'è la minion la casa e il qua è nome telefono indirizzo cattivissimo mequattro dove c'è mel e un minion bambino piccolo carino per il minion così con il cappello piccolino che carino una matita si una matita gialla di cattivissimo mequattro dove sono raffigurati tutti i minion vabbè non si vedono la manetta i minion o è un'altra matita un'altra matita ma è di colori molto colori con i minions ma sono ripetitivi minion che fa scurare minion che fa yeah ciao ciao e questo minion può scurare a caso va bene un righello dove ci sono tutti i minion abbiamo Kevin questo minion bambino carino wow questo dave qua questo minion con la faccia un po' curiosa minion che balla yeah yeah piccolo minion yeah yeah Kevin che mangia la banana Mel sto minion qua Mel che telefona con la banana e il minion Jerry che è un righello vabbè e per finire finalmente una specie di matita a caso dove ci sono questi minion raffigurati a caso va bene queste sono le fantastiche sorprese che abbiamo trovato nel super epimil di cattivissimo me 4 e cattivissimo me 4 nell'epimil e noi ci vediamo al prossimo video perché è durato molto a presto facciamo prossimamente gli unboxing degli abc della merenda e di qualcosa di strano restate in sintonia con le collezioni di paolo paoli new le collezioni di paolo paoli new di paolo paolo